Un benvenuti e un bentrovati a tutti gli amici di TuttoMotori, io sono Andrea Cavatorta, siamo all'AutoZatti, sede di Reggio Emilia e voglio accompagnarvi nel nostro incontro mensile del mondo già targato AutoZatti, laddove abbiamo finito la settimana scorsa, cioè in mezzo iSUV, vorrei incominciare questa nuovissima puntata. Non sto parlando di un marchio a caso, sto parlando di Lexus in questo caso, il top, il top nel mondo del librido e il top nella tecnologia. Adesso andiamo a vedere un po' di offerte. In questo inizio di finestrate voglio iniziare dal top, il top di Lexus, cioè un RX 450 Hybrid allestimento Luxury. Questa vettura è un anno 2018 ed ha percorso poco meno di 100.000 km. Non vi sto a dire quello che ha di serie, perché ha su tutto, farei prima a dirvi quello che non ha e vi invito sempre a consultare il sito. Il prezzo 42.000 euro per avere il top di Lexus. E qui a fianco abbiamo la sorella minore, se così si può definire, un NX Hybrid allestimento Luxury. Anch'essa ha su tutto e come per la gemella maggiore non vi sto a elencare gli accessori. Questa vettura è full optional, è un anno 2015, ha percorso 40.000 km, il prezzo 29.000 euro. Vi ho fatto giusto due esempi del mondo SUV e crossover a Lexus che potete trovare nella sede di Reggio Emilia o presso il gruppo AutoZatti. Vi consiglio quindi di consultare il nostro sito gruppozatti.com o il numero verde 898 4413. Cambiamo brand, andiamo in casa Opel. L'AutoZatti ha acquistato decine e decine di vetture dirigenziali marchiate Opel. In questo caso parliamo di un altro SUV, un Opel Crossland X 1.5 Ecotec Diesel. La vettura è un anno 2019, ha percorso 7.000 km ed è un allestimento Innovation. Ha il climatizzatore, il Bluetooth, la presa USB e i cerchi lega. Il prezzo 16.300 euro, IVA delucibile. E restiamo in casa Opel, parliamo sempre di vetture aziendali. Parliamo di due Opel Corsa gemelle, però una è a GPL e l'altra è benzina. Entrambe sono vetture del 2019 e hanno percorso circa 20.000 km. Hanno il climatizzatore e il collegamento Bluetooth. I prezzi? 9,9 per il benzina, 10,5 per la motorizzazione alimentata GPL. Entrambe IVA delucibile. Ed eccoci arrivati in casa Citroen con una bellissima C3 Aircross 100 cavalli diesel allestimento Shine. La vettura ha sul navigatore, il clima digitale, il Bluetooth e i cerchi lega. È IVA delucibile ed è un anno 2019 con 35.000 per i corsi. Anch'essa è una vettura aziendale comprata da casa madre. Il prezzo? 15.500 euro. E continuiamo con un'altra Citroen. Una C3 turbodiesel 100 cavalli allestimento Shine. Anch'essa vettura dirigenziale e aziendale IVA delucibile. La vettura ha il Bluetooth, i sensori parcheggio, i collegamenti mirror link per i nostri telefonini. Ha percorso 40.000 km ed il prezzo è di 13.700 euro. Vettura in garanzia ufficiale. Ed ecco l'ultima vettura d'occasione del mondo autodattili di questa puntata ed è una bellissima Jeep Renegade 1.620 cavalli multi-jet allestimento limited. La vettura ha ovviamente il clima digitale, i cerchi lega, il sistema Uconnect. Ha percorso 25.000 km ed è un anno 2019. Anch'essa vettura dirigenziale. Il prezzo? 20.900 euro. Ovviamente IVA deducibili, garanzia ufficiale. È evidente che vi ho raccontato solo una piccolissima parte del mondo del già tragato AutoZatti. Troverete tutto sul nostro sito gruppozatti.com e quello che non troverete chiedetecelo. Noi siamo in grado di procurarvi qualunque tipo di vettura usata, semestrale, aziendale, cioè già targata. Con questo Andrà Cavatorta dal gruppo AutoZatti, Sede di Reggio Emilia, vi saluta e vi aspetto alla prossima puntata.